Una ricognizione nei principali scali aeroportuali siciliani in vista delle misure speciali che saranno adottate con l'ordinanza del Presidente della Regione nell'OMU Sumeci dedicata ai rientri nell'isola per le festività di fine anno. È quanto messi in atto dalle strutture commissariali per l'emergenza coronavirus di Palermo e Catania che hanno effettuato una verifica presso le aerostazioni delle due città in cui si concentra la maggior parte del traffico aereo da e per la Sicilia. Al Falcone Borsellini è stata verificata l'area dello scalo palerunitano dedicata ai test per i viaggiatori in arrivo uno spazio che potrà essere eventualmente implementato con altre postazioni. La stessa ricognizione è stata effettuata a Catania presso il Terminal C del Vincenzo Bellini dove già durante la fase 2 della pandemia è stata attrezzata per la verifica anti-covid. È probabile che oltre ai punti di verifica allestiti negli aeroporti, nelle città siciliane e in tutto il territorio possano essere organizzati ulteriori drive-in dedicati proprio per consentire a quanti faranno ingresso in Sicilia con altri vettori di poter effettuare il tampone rapido. I sopralluoghi effettuati ieri negli aeroporti di Catania e Palermo sono solo alcuni degli aspetti organizzativi e di profilassi promossi all'assessorato regionale alla salute che è già al lavoro dopo un confronto con gli esperti per predisporre ogni iniziativa utile di prevenzione in vista delle festività natalizie.